ciao a tutti ben ritrovati come promesso finalmente arriva il setup della escudo per correre a tokyo nel wc da 600 pp è la gara che al momento paga di più probabilmente resterà tale per anni vedremo se vedremo se la polifoni avrà voglia di introdurre nuove gare con un payout delle ricompense più alte anche per garantire a tutti diversi tracce su cui farmare se farmare è la vostra passione la mia lo è a giorni alterni comunque ben ritrovati per chi ritorna sul canale benvenuti ai nuovi se gran turismo 7 vi appassiona e state giocando al gioco per la prima volta o da una vita credo siate proprio nel canale giusto se non siete ancora iscritti fatelo adesso lasciate anche un mi piace e commentate qui sotto per farmi sapere con quali auto avete vinto la gara di tokyo grazie dopo questa piccola introduzione andiamo subito al contenuto di oggi la escudo era chiaramente un'auto è chiaramente un'auto leggendaria al momento non è più tra le leggendarie ce ne sono altre comunque tempo fa avevamo già chiacchierato qui sopra per acquistarla spero l'abbiate fatto così non fosse salvatevi il video appena torna la escudo a disposizione ora però voglio far vedere appunto il setup per vincere a tokyo questo è il setup originale con cui arriva 8 e 46 non mi piaceva molto l'ho già detto più volte ho cambiato seta perché era inguidabile secondo me guardate quanti ne ho sto facendo uno dopo l'altro il 600 versione 3 è quello che finalmente mi ha reso un po più felice ed è quello che vi permetterà di divertirvi secondo me e gareggiare a tokyo in maniera super pulita e come detto appunto divertenti allora le cose da comprare ormai lo sapete benissimo nella messa a punto ci sono vari componenti o gomme che magari non avete io qui per far stare tutto ragazzi perché come ben sapete se già vado su sport dura fare un piccolo esempio andiamo 649 quindi le comfort mediche sono le uniche in grado di scendere sotto i 600 anzi 600 più più precise sospensioni personalizzabile non vi serve nemmeno quella da da corsa come differenziale semplicemente personalizzabile questi sono i parametri ho impostato anche un 45 55 distribuzione coppia per anteriore e posteriore la deportanza fondamentale 700 ovviamente il top è 200 il minimo su posteriore la prima e anteriore la seconda la ECU non la cambiate il computerino di motore lo lasciate così al 100% faccio vedere questa parte qua è tutto normale non c'è niente non c'è nessun turbocompressore nessuna elaborazione del motore utilizzata torniamo un secondo qui qui è fondamentale dovete buttare 161 kg di zavor posizionare tutti sull'anteriore ma lo sapete meno 50 almeno sapete quello vedete in questi video qua e la potenza resta al 100 facendo così easy 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 l'auto scende a 600 pp con 995 cavalli io ho già corso adesso lancio il replay lo commentiamo un attimo insieme vediamo come è andata la gara così vedrete anche voi la fattibilità e come dico sempre se ci riesco io penso ci possa riuscire chiunque allora questa è la partenza ovviamente ultimi o il tcs a 1 per ora guardatela comunque fuori fuori di testa qua tcs a 1 per i primi spingere ragazzi che la bellezza per i primi due giri come sapete tokyo pian piano si asciuga la pista in questa questo tracciato si asciuga al primo giro vedete sono praticamente secondo alla prima staccata comunque mantengo il tcs a 1 per evitare di fare l'eroe inutilmente prime curve vedete molto tranquilli anche se gli altri mi recuperano ragazzi lo sapete una gara che dura 25 27 minuti qui ho le comfort medie se non sbaglio non so se rende l'idea andiamo a fare la spesa con queste queste come comunque riprendiamo la seconda posizione su risal con gallo che ci stacca ripeto il solito concetto i primi due giri sono veramente dei giri difficili e dovete solo tra virgolette limitare i danni evitate di prendere penalità guidate puliti anche se siete a distanza del primo peccato che nel replay non faccia vedere i tempi vedete lì in alto a sinistra non c'è il distacco comunque qualche colpetto l'ho preso per fortuna non mi ha dato nessuna pianità comunque rimanete guiderete sicuramente meglio di me lo so ma rimanete a contatto con visivo almeno con con gallo che vedete che qua davanti qui perdo di nuovo la seconda posizione ma detto prima per essere abbastanza prudente ovviamente rallentato prima del dovuto e questo ha garantito agli altri diversi sorpassi ma gallo e lì come staccata riprendo la mia seconda posizione all'interno bello aggressivo vediamo che succede alla fine del primo giro poi ovviamente come sapete in questi video setup che porto non faccio tutta la gara ma faccio vedere i punti i punti fondamentali rettilineo attaccati ai zal per mezzo secondo poi diciamo sai che c'è io ti saluto punto valerio gallo nel primo guardate la velocità di punta siamo a 300 circa qui sul sul traguardo ne avrei ancora un po di più finiamo praticamente il primo giro molto più attaccati a gallo con un distacco maggior rispetto agli altri e pian piano la pista si asciuga quindi fin qua limitate i danni adesso vediamo che succede nei prossimi giri vedete su svillo addirittura il giro per cento ha fatto un 2 14 noi siamo a 2 è più o arriva lì gallo fa 2 14 e noi anche siamo in linea comunque tutti li abbiamo girato più meno alla stessa velocità quindi inizia il quarto giro con noi all'inseguimento non abbiamo per ora ancora superato il primo miglioro leggermente il mio tempo siamo sempre attaccati ed è veramente importante condizioni delle gomme perfette avanziamo pian piano vediamo come come si sviluppa la gara altro giro qua più o meno tempo in linea con quello precedente siamo sempre di attaccati almeno a vista su gallo che cerca la fuga ma non ci riesce su svillo ci insegue fine del quarto giro impieghiamo qua 2 e 14 3 attaccato al tempo precedente nostro ma non ancora il più veloce questo era la fine del quarto inizio al quinto benzina come vedete ne abbiamo poco più della metà e gomme ancora che resistono fine del quinto giro siamo sempre nella stessa posizione ci sta il gallo siamo andati abbastanza diciamo in linea su svillo da dietro si è un po staccato qua siamo però vedete in scia quindi sta roba ci aiuterà lui va ai box esatto si lui al termine del quinto vai box e noi giriamo in un 2 12 e facciamo il giro veloce 2 12 8 dove precedenti erano stati in 2 e 14 quindi quasi a metà gara perché in realtà questo inizio del sesto giro siamo già primi con gallo e box e il resto degli altri appunto farà le soste un po più avanti ho preso una penalità in questa gara la vedete adesso come sempre non le tolgo dai miei video perché voglio mostrarvi che anche con una guida non pulita come la mia ce la potete fare qui affronto questa curva poi ragazzi ogni tanto mi distraggo po dritti c'è un bel bello scontro a muro 5 secondi di penalità purtroppo prendo porto a casa ma resistiamo siamo primi mi spiace che non lasci veramente i tempi in alto sinistra perché vuole vedere di distacco reale da su sviluppo ok qua faccio il sconto diciamo la penalità devo rallentare cinque secondi buttati che sono in realtà un po di più visto il rallentamento anche qua nella parte di accelerazione fine del stesso giro metà gara cosa faccio classico vado a fare rifornimento qui avevo il 14 per cento di benzina ragazzi lo spinta parecchio io vi consiglio di andare sempre con la mappatura a 1 se vedete che state sotto i sei giri magari alzate a 2 cambio anche le gomme così da essere perdo qualche secondo in vedete che sono in realtà questa è la fase di benzina non vedo nessuno lavorare sulla macchina ok era così un attimo ad ammirare la bellezza di questo scudo comunque faccio il pieno per garantirmi altri sei giri mappatura a 1 cambio gomme rimetto le comfort medie che già fa sorridere però usciamo dei box inizio dal settimo giro quindi seconda parte di gara siamo settimi anzi noni guardate come mangiamo prima yamanaka facile facile e ripartiamo all'inseguimento dei primi finisce il settimo giro con fra gaizale coco boom che sono i primi vanno ai box come vedete in alto a sinistra noi ovviamente siamo usciti dai box quindi il giro sarà non valido dal punto di vista cronometrato vedete quanto è bassa dietro e alta davanti qua volendo tutte le box vanno ragazzi ci troviamo secondi di nuovo dietro gallo in penna stout ho provato a fare diversi setup ovviamente sarà a basso davanti mi salgono i pp quindi non riusciamo ad arrivare qua non è lo detto più volte anche altri video con le scudo non è l'auto adatta a questo circuito almeno per quanto mi riguarda però comunque divertente perché si può vincere comunque ottavo giro pista sempre più asciutta gallo lo vedete lì che cerca di andare via ma mi sa che il ragazzo ha capito che non ce ne sarà altro giro altra corsa qua continua a migliorare il mio tempo sono mezzo secondo di vantaggio su quel 12 e 8 mi attacco a lui in scia e ovviamente lo sorpasso e dico grazie per avermi tenuto il posto al caldo record si 2 11 e 9 un secondo sotto il mio tempo veloce ormai ho preso qua a largo e spingo mancano tre giri quindi non posso fare altro che spingere la pista è sempre cresciuta quindi più semplice e più veloce in realtà sul c'è poco da dire secondo me sulla pista di per sé perché la conoscete tantissimo quindi le uniche due frenate brutte sono brutte diciamo pesanti sono questa che vi mette poi a rettilineo e quella successiva dopo la fine del primo rettilineo per il resto è una pista che ormai conoscete tutti e non dovrebbe essere un problema per nessuno secondo me vincerla vincere la gara appunto su questa pista qua peggioro di qualche decimo la mia prestazione ma l'obiettivo che avevo onestamente era solo quello di arrivare davanti penalità l'ho presa mi interessava poco comunque mancano due giri qua abbiamo girato in 2 12 e 8 devo vedere come vanno i prossimi due gallova i box quindi era attaccato e decide di nella seconda sosta e questo capita per molti loro quindi siete veramente stra vantaggio adesso in questo momento ha finito il giro kokobun quindi adattamente sono 17 secondi di vantaggio almeno almeno una ventina chiudiamo questo giro credo di nuovo in 2 12 perché è la nostra e la costanza abbiamo si due 12 qualcosa mezzo secondo di ritardo rispetto al nostro giro veloce parte il penultimo giro gomme in stato perfetto benzina come vedete un quarto abbondante di serbatoio residui anche qua per ultimo giro stiamo in linea che i nostri tempi gallo rinato terzo vediamo se fanno le soste loro stesso un secondo in ritardo diciamo rispetto al nostro tempo quindi ancora sotto i 2 13 comunque vediamo lascia andare un po per capire se loro l'ultimo giro comunque ma mi sa che qualcuno di loro per strategie un po così geniali fa una sosta adesso non lina con il nostro tempo vediamo se qualcuno vai box kokobun passa il traguardo noi andiamo un po lunghi se ma non tocchiamo chi c'è gallo passa su svillo passa e nessuno di questi in realtà vai box adesso qualcun altro dietro mi pare vedremo comunque siamo lanciatissimi abbiamo una trentina di secondi di vantaggio se non ricordo male mancano pochi chilometri alla fine della gara era porteremo sicuramente a casa nessuno ha fatto la sosta in questo giro quindi anche questa cosa un po un po cambia perché mi ricordo più volte di aver visto qualcuno di loro così felice di andare ai box nell'ultima tornata comunque tempo totale più meno 27 40 sarà o sozzi sotto i 28 sicuro una penalità ho preso mi ha rallentato in quel giro come abbiamo visto però per il resto ragazzi gara semplice divertente se volete fare avete il setup ognuno poi scelga se farla o no sono 825 mila crediti in 27 minuti e 30 come abbiamo visto qua c'è riepilogo con con i piloti tutto quanto io vi ringrazio come sempre per aver visto il video se volete iscrivervi al canale sarei molto contento e lasciato mi piace al video se vi siete divertiti per ora è tutto vi ringrazio e ci vediamo molto molto presto con un prossimo video ciao a tutti